Buonasera, bentornata di Indiavolati. Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati, ancora come promesso. Ve l'avevamo detto, non era una minaccia ma una promessa, quella di ritrovarci ancora insieme, nonostante la stagione del Teramo sul campo sia terminata, però noi andiamo avanti, stasera siamo qui, lunedì sera ci saremo con una puntata speciale, non sveliamo altro, però insomma... Io direi che anche questa sera una puntata speciale, decisamente scoppietante. Tra un po' vi accorgerete il perché, però siamo qui, siamo qui insomma perché comunque del Teramo se ne parla, si continua a parlare di ciò che è stato, cioè della stagione appena conclusa, ma anche degli scenari futuri, dunque delle novità che attendono la squadra e la società bianco-rossa da qui ai prossimi giorni. Diciamo che al momento possiamo fare solo delle ipotesi perché ufficialmente non si muove e non si è mosso nulla finora. Non si muove foglia, come si dice. Cioè proprio periodo di riposo. Si attende la famosa conferenza stampa annunciata dal presidente Luciano Campitelli, di cui ancora però non vi è notizia, non c'è stata alcuna convocazione, quindi aspettiamo per conoscere quelli che saranno gli sviluppi societari dai quali partire, poi ovviamente per programmare e costruire la prossima stagione. Di questo, ma di tanto, tanto, tanto altro... Secondo me, se mi posso permettere, parleremo soprattutto di tanto, tanto, tanto altro. Soprattutto di tanto, tanto altro questa sera perché, come dicevi tu, è veramente una puntata speciale, lo vedrete subito, tra pochissimo, appena Norotea presenterà gli ospiti. Allora, intanto ritroviamo anche questa sera, perché ovviamente sarà con noi fino all'ultimissima puntata di questa stagione, Diego Di Felice Antonio, allenatore opinionista. Eccolo qui, Diego, grazie Diego per essere di nuovo qui e per sopportarci ancora. E sopportare me. Grazie e buonasera a tutti. Allora, in rigoroso ordine alfabetico, mi confermi? Sì, 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 non abbiamo sbagliato l'ordine alfabetico, però insomma è difficile. Ci perdonerete e ci perdoneranno i nostri ospiti. Rigoroso ordine alfabetico, i nostri graditissimi ospiti... Possiamo dire che sono tre pezzi di storia del Teramo? Non è che lo possiamo dirlo, sono, non lo diciamo noi. Assolutamente. E sono Silvio Camaioni, ex Teramo Calcio, dal 70 al 74. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Capitano del Teramo. Di quegli anni, di quegli anni. Buonasera Silvio. Buonasera. Carlo Di Cristofaro, ex Teramo Calcio, dal 72 al 73. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Buonasera Carlo, grazie anche a te. Ed è un piacere ospitare anche Antonio Pica, anche lui giocatore del Teramo, e tra i tre quello che è stato di più a Teramo, dal 70 al 75. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, è un parterre straordinario quello di questa sera. Da impinarsi davanti a questo pezzo di storia del Teramo. Che veramente abbiamo un pezzo fondamentale della storia del Teramo Calcio con noi questa sera. Tra l'altro, insomma, grandi amici, vero? Insomma, lo possiamo svelare subito. Siete tre grandi amici che siete rimasti legatissimi anche oltre il campo di calcio. Immagino che stasera, insomma, ce ne darete conferma in questa trasmissione. Diego, sono anche i nostri affezionati telespettatori, no? Sì, molto. Questo confermatecelo, se dovete essere voi a dircelo. Che ci seguite. Allora, posso dire una cosa? Anche perché da parte dell'Ora sono anche dei messaggi. Allora, io devo andare vicino a lui perché abbiamo fatto una promessa ad una persona che ci sta guardando. Dunque, per farmi riconoscere... Ecco. Eh? Ah, mio cusino? Eh, certo. La figlia del Tommaso? No, questa è la televisione verità. Ah, sì. Tommaso. Mazzetto, ovviamente il mio cognome è Mazzetta, che ha lavorato... Con mio cusino. Carramba, che sorpresa. Eh, non ci facciamo mangiare nulla. Mazzetto, molto. Poi volevo dire, e poi al ripasso saluto anche lui con affetto e con un abbraccio, che questa sera l'ha detto al commento della stagione appena conclusa, il Teramo Calcio è lui, perché è quello che diciamo ha seguito un po' di più le sorti del Teramo e quello che lo possiamo dire. A sfidere. Chiacchierà pure un po' di più. Per cui, lui l'ha detto al parlare del Teramo e allora a raccontare un po' di più la storia del Teramo Calcio. Assolutamente. Gloriosi. So che Carlo deve anche... Devo fare un saluto. Ha un obbligo, un obbligo. Prego. Come tutti, prego. Un saluto ai miei nipotini. Ciao Anita, ciao Paola, buonanotte. Potete andare a letto dopo il saluto del nono Carlo. Allora io ho la sensazione... Anche Silvio voleva fare qualcosa, un saluto. Anche noi salutiamo i nostri cari e i nostri familiari. Indubbiamente, Tonino, Tonino. Allora i saluti ai miei nipoti Giuseppe, Guido, Achille e Elia. Fantastico, saluti. Saluti a tutti Diego, vero? Saluti a tutti. Allora io li ho amati subito questi tre perché abbiamo cenato insieme e vi assicuro che io gli consegnerei la trasmissione questa sera, sinceramente perché noi siamo in casa, ma se la prenderanno, ma se la prenderanno. Assolutamente. Diego. E a questo punto da dove passiamo? Vuoi dire qualcosa? Dici. Voglio dire, hanno contribuito a fare la storia del Teramo, ma veramente, tutti e tre. E poi sono degli uomini veri, hanno un cuore grandissimo. Basta pensare che dopo 50 anni, 40 anni, quando sono passati loro sono amici, erano amici in campo e sono rimasti amici con le loro famiglie, il che dice tutto insomma. Questo in effetti è un aspetto bellissimo che insomma rende ancora maggiormente l'idea anche di quello che era il calcio di quei tempi. L'abbiamo già sentito raccontare dagli altri ospiti che sono venuti qui, erano altri tempi, un altro calcio, un altro modo di vivere il calcio, però i tempi cambiano insomma, non è detto... ci piace anche oggi il calcio. Sì, però il calcio di oggi è un calcio diverso, però per i valori umani, per queste cose qui, niente a che vedere con gli anni di cui parlavamo prima, gli anni dopo, degli nostri, c'erano altri principi, altri sentimenti, altri valori, ecco la parola appropriata, altri valori, che oggi mi dispiace ma non ci sono più. E poi tutti e tre insomma siete rimasti anche molto molto legati proprio alla realtà terramana insomma, avete giocato ovunque, avete giocato in giro per l'Italia. Certamente, un po' troppo però. Come? Un po' troppo legati. Un po' troppo legati. Io ti posso dire, scusa Silvio, una frase bella di Carlo, e lui ha giocato in tante squadre a Teramo, a Teramo ha giocato un anno soltanto, però ha sempre detto, l'ho anche detto nelle interviste, che l'anno più bello per lui è stato a Teramo, perché ha incontrato tifosi veri e un ambiente ideale. È vero Carlo, ce lo confermi che è così? O se l'ha inventato Diego? No, non se l'ha inventato. Sono di Colonna, quindi sono terramano, veramente, ecco, amici come Diego e tanti altri di Teramo, è un piacere venire a Teramo, cosa che, vabbè, sono lontano dalle altre piazze, però qui è un piacere, grazie di averci invitato. Che ultimizziamo in questa puntata, perché sarà difficile dargli un ordine. Abbiamo tentato una scaletta, ma come al solito ovviamente sarà stravolta, quindi cerchiamo inizialmente di rimanere un po' sull'attualità, allora abbiamo detto che si è conclusa da ormai insomma una decina di giorni, otto giorni, nove giorni la stagione del Teramo, senza code di alcun tipo, fortunatamente senza play-out, purtroppo anche senza i play-off sfiorati davvero per pochissimo. Tra l'altro poi parleremo anche dei play-off che sono iniziati ieri, play-off del girone B di Serie C. C'è una scheda del nostro collega Jacopo Di Francesco che lancia alcuni temi di discussione facendo un po' un'analisi di quella che è stata la stagione del Teramo Calcio, andando anche un po' ad anticipare i temi del prossimo, dell'immediato futuro. Vediamola. Come ormai da tradizione, la stagione del Teramo non si chiude sul campo. Se da un lato sia la positiva seconda parte di campionato, sia il solo play-out da evitare hanno concesso al diavolo una salvezza molto più tranquilla rispetto agli ultimi anni, il prossimo mese, dovesse bastare, sarà decisivo per il futuro del 1913, forse questa volta con una stabilizzazione decisiva. In attesa della conferenza stampa del presidente Campitelli, bisogna prendere atto delle parole del vice Ercole Cimini, che ha paventato la quasi certa cessione delle sue quote. Proprio in questo senso rientra la figura di Francesco Quintiliani, imprenditore romano più volte a colloquio dal sindaco d'Alberto con Campitelli, e interessato ad una quota sostanziosa della società, oltre che al ruolo di direttore generale, dell'ormai ex Emilio Capaldi. Per l'ingresso del nuovo socio sarà comunque chiave la questione stadio, anche essa da chiarire prossimamente con il gestore. Tornando finalmente all'aspetto tecnico, Salvo Ribaltoni dovrebbe continuare a decidere il binomio Federico Maurizzi. Stagioni in chiaro scuro per entrambi, per il DS servirà una svolta nella scelta degli under, riconoscendo comunque l'aumento di giocatori di proprietà rispetto alle scorse stagioni, i quali hanno fornito un apporto limitato, come Zecca, Piacentini e Cappa. Quelli di Caidi, Cegli e De Grazia sembrano i rinnovi o le separazioni più impellenti. Sarebbe poi importante fare chiarezze tra scelte ed infortuni in porta, oltre che mantenere due chiavi della salvezza, come Proietti ed Infantino, con il primo in scadenza di prestito dal Pescara. Parlando del mister, oltre ad avere il merito di scegliere mestieranti utili alla causa, come Spinozzi, Armeno e Sparacello, ha ridato mentalità di una squadra ormai succube della storia recente a livello innanzitutto psicologico, ha mantenuto saldi, valori e gerarchie nei momenti più complessi, anche fallendo però nel confermarsi quando serviva un salto di qualità, primariamente tattico. Spesso la sua volontà è persa quella di forzare gli episodi, piuttosto che crearli, con fiducia negli effettivi, comunque ben ruotati. Tanto da decidere, ancora una volta. Al momento è stallo, ma per il teramo sarà un'altra estate calda. Eh, tanto da decidere, è vero. Tanto da decidere, esatto. E si spera, Diego, anche piuttosto in fretta, no? Perché prima si chiariscono quali sono le dinamiche societarie, gli scenari legati alla società e prima si può iniziare davvero a costruire la prossima stagione. Certo, prima, come hai detto tu, bisogna chiarire questa situazione, è sempre un po' confusa, della società ogni anno, è così, però la sensazione che ho io è che tutto rimane come sempre, il presidente rimarrà a Campitelli, il signor Quintiliani magari entrerà, ma c'è i miei dubbi. Credi a Cimini? No, non credo in un modo più assoluto, ma in un momento di sconforzo si dicono tante cose, in un momento, torniamo al fatto delle parolacce, tutto quello che prende il cugino, lui stesso, lo posso capire, però in un momento così sono frasi che lasciano il tempo che trovo. Però l'ha detto nel momento in cui è arrivata la matematica salvezza per il terreno, dunque non era un momento di sconforzo. Sì, però loro non possono uscire, anche perché devono trovare un offerente, qualcuno che entri a posto loro, devono riprendere dei soldini, non è che abbandone, quindi saranno costretti, tra virgolette, ad andare avanti, perché non c'è una soluzione di ricambio, quindi non c'è alternativa. Però magari con qualcuno al loro fianco. Non arrivi qualcuno consistente, ma per adesso mi sembrano tutti i personaggi fittizi che lasciano il tempo che trova. Quintigliani no! Almeno ha una faccia, penso che accompagna frequentemente Campitelli anche nel riunico del sindaco. Sì, non c'è ancora nulla di concreto, quindi io fin quando non vedo la sostanza... Aspettiamo un'ufficializzazione. Per quanto riguarda i giocatori da... Sì, la parte tecnica. ...uno per uno, magari... Poi possiamo anche addentrarci esattamente, insomma, anche nelle valutazioni sui singoli, legate anche ai rapporti in essere col terreno, insomma. Però, insomma, in generale, secondo te, la rosa che ha conquistato la salvezza quest'anno è una buona base dalla quale poter ripartire. Ma sicuramente, lo abbiamo già detto... Pona la guida sempre, insomma, a Genore Maurizio, che ha un contratto in essere. Sì, è confermato, c'è il contratto, quindi sulla stessa falsariga, senza cercare di distruggere come facciamo puntualmente ogni anno, su questa squadra, facendo i dovuti ritocchi, nei punti importanti da ritoccare, io dico sempre una frase, non buttiamo l'acqua sporca con tutti i bambini dentro, no? Cerchiamo di buttare l'acqua sporca con qualche bambino dentro, per modo di dire, ma non tutti, non mandiamo via dei giocatori che secondo me sono basilari in questo contesto. Anche se, ad oggi, contratti alla mano, i giocatori che hanno ancora appunto un accordo anche per la prossima stagione sono solo otto nella rosa del terreno, il resto sono tutti o in scadenza o in prestito, quindi bisognerà fare delle valutazioni anche su questi altri giocatori. Ma i giocatori sotto contratto sono i due portieri Gomis e Lewandowski, i due difensori Piacentini e Speranza, il capitano Speranza, l'unico centrocampista è Persia, con il contratto anche per la prossima stagione, e gli attaccanti sono Barbuti, Infantino e Sparacello. È la prima volta che abbondano gli attaccanti ad inizio campionato, tra l'altro certificati che fanno gol tipo Infantino, erano anni che il Teramo non partiva sulla carta già degli attaccanti di questo spessore, o sbaglio direi. No, no, dici la verità. Però ecco, Barbuti ha il contratto, quindi... Poi magari anche i di questi col contratto non tutti rimarranno. Per quanto riguarda Infantino e Sparacello io li confermerei, anche se io sono più per Sparacello, sono sempre opinioni personali, quello che dico non è che... Io dico il mio pensiero, chiaramente, ragazzi, lascio il tempo che trova. Però io su Sparacello lo terrei. Infantino ce l'ha dato tanto, però se ci possiamo guardare attorno e magari trovare un attaccante più giovane, con caratteristiche diverse, più movimento, più... perché io, senza nulla togliere ad Infantino, io l'ho visto molto forte solo quando questa palla arriva nel cross. Quindi, su palla giocata, palla a terra, palla... non lo vedo, spesso spalla alla porta, mi sembra un fuori di guerra. Sarebbe utile, importante, ovviamente, trovare o inserire in rosa un attaccante che possa dare manforte allo stesso Infantino, anche per quanto riguarda i gol, perché giustamente Sparacello ha fatto sicuramente bene, è stata un'ottima spalla di Infantino, ma ha dato poco in termini realizzativi. Quindi, magari, confidare solo su Infantino come cannoniere, poi se si inceppa lui magari non ci sono alternative. Cioè, un altro attaccante buono da un punto di vista realizzativo è auspicabile. È anche vero che Infantino, oltre ad aver fatti i gol che ha fatto, e viva Dio li ha fatti, è anche un giocatore di forte personalità, per cui in una squadra un giocatore con la personalità di Infantino può fare la differenza, soprattutto nei momenti delicati, e quest'anno ne abbiamo avuti veramente tanti. Sì, però io voglio dire questo, io Infantino non è che adesso mi metto a discutere Infantino, grazie ai gol di Infantino ci siamo salvati. Questo è un dato di fatto, non si discute. Però, come vedo il calcio io, ripeto, il mio modo di vedere il calcio, a me piace vedere una punta di movimento che rientra, che è da manforte, che è bravo con i piedi, perché a lui il massimo, dobbiamo anche dire che c'è stato un momento di stanca, con cinque partite non ha fatto un gol, non so se ce lo siamo dimenticati. Lui è stato determinante, però a una certa età si può scegliere magari qualche ragazzo che fa i gol, chiaramente dobbiamo spendere qualcosa, perché non possiamo fidarci a Pico Pallino, insomma, voglio dire. Una punta più di movimento, che sia bravo anche nel gioco a terra, nella palla dialogata. Qua ci sono tre giocatori che hanno giocato tanti di quelle gare, forse mi capiscono che cosa voglio dire. Magari come poteva essere un bacio terracino che già avevamo in rosa. Eh, con un giocatore che sappia dialogare, che sappia a nome. So che piaceva Carlo Di Cristoforo, ovvero ci hai confidato prima che l'hai visto giocare e ti piaceva come come giocatore. Certo, appunto, Carlo stavamo parlando prima, giocatore di movimento con attitudine più completo, insomma. Cioè, io dico sempre che fare i gol di testa, la testa è un di più, però devi sapere, perché i cross devono arrivare bene, devi avere ali che fanno i cross, però devi giocare maggiormente il 70% per fare con i piedi. E lì, onestamente, con i piedi non mi è sembrato un fulmine di guerra. Certo. Io così la vedo, eh. E se giocava bene pure con i piedi faceva 20 gol. Punto, io perciò, siccome dobbiamo stare molto attenti a non sbagliare, quindi, sono infantili, ripeto, ma qualcuno magari mi fraintendere, rimane... Non lo discutiamo, non lo discutiamo, assolutamente. So che voi insomma volete... Però, insomma, qualche considerazione, anche in generale, in termini generali, sulla stagione che si è chiusa comunque con una salvezza importante, perché mantenere la categoria in un campionato difficile come la Serie C è sempre obiettivo importante, no? Soprattutto il girone B, il girone di quest'anno è sicuramente stato il più completo, il più difficile dell'intera categoria. Dunque è stata comunque, no, Silvio, un'impresa importante. Il passato è il passato. Ecco, oggi intera, potevi capire che dopo, diciamo, tante esperimentazioni, tanti soggetti che sono arrivati, deve ricostruire la squadra in base a quelli che ritengono più opportuni per questa categoria. Sì. È inutile che facciamo, dice, questi 11 sono salvati ma non mi piacciono, tutti fuori, no. Qualcuno deve capire che fare una squadra nel prossimo anno con degli giocatori affidabili che hanno visto un po' peggiori. Non conta questo, conta non sfasciare, riformare tutte queste cose qua. Magari cambiare qualche pedina ma mantenere... Così come si forma tante la famiglia, come si forma... altrimenti si è appunto a capo un'altra volta. Anche perché sembrerebbe anche che ci sia affiatamento tra questi ragazzi, insomma. E giustamente. Si sono trovati bene e andrebbero, insomma, anche d'accordo. Non puoi mandare sempre tutto e ricominciare da capo. Altrimenti, insomma, la famosa programmazione non esiste, insomma. Io spero che nell'ambito della, diciamo, della società del terramocalcio, che mi sta molto a cuore, non faccia queste cose qui di, diciamo, distinto, di spesa, se la fatti fuori, non serve a niente. O costruisci, o c'è un programma, o non lo fai. Certo. E il discorso è questo. Io vedo tante squadre che fanno di queste cose qui e sono a punta a capo l'altra volta. Prendiamo quello, prendiamo quell'altro, prendiamolo con l'altro. Questi stavano a destra, l'anno scorso che facciamo? Li buttiamo via? Che facciamo? No. Ma ci vediamo quel punto lì, quel ruolo lì ricoperto. E lì si comincia a vedere qualcosa di importante. Quindi magari anche rinnovare i contratti, magari in scadenza di quei due, tre. Non mi toccare i contratti perché mi da fastidio. Io sono, viedo come avete invitato, però sui contratti non sono d'accordo. Perché? Adesso andiamo su un punto, non di critica. Io dico questo, i contratti, ai tempi nostri, erano tempi diversi. Va bene. Oggi i contratti, chiamo quello, non ci vengono se non mi fai quattro anni di contratto. Non ci vengono. Noi i contratti erano anno per anno. Annuali. Non sto criticando il sistema. Il sistema è da criticare. Però, per esempio, i nostri, si è riconfermato. Non riconfermato. Non ne vuole nessuno. Trovo la squadra. Era così? Però... Era così? Era così. Che prima era così, anno per anno. Però adesso il sistema è cambiato. Soprattutto adesso ci sono i procuratori, no? Che comandano spesso e volentieri. Io volevo dire una cosa. Faccia nostra parlare con il Presidente. Esatto. Adesso, voglio dire una cosa. Sì. In queste cose che dico io, non c'è niente di maligno, per carità. Però, tu crei un oggetto. Non crei un giocatore. Se io ho 20 anni e mi fai 40 contratti, a livello di suo, vai in pensione. Ma ti rendi conto? Anche perché i contratti, come dire, anche quando ci sono, poi non è che siano garanzia, voglio dire. Garanzia. Perché poi ci si mette d'accordo tra società e giocatore. Se si vuole risolvere il contratto, si risolve, no? E si va via lo stesso. Altrimenti il calcio lo smetterebbe sicuramente. Quest'anno però è un anno dove chi ha ancora il contratto ce l'ha per un altro anno ancora. Cioè, contratti lunghi non ci sono almeno quest'anno. Nel Terramo? Sì, sì. O veniscono, sono in prestito, oppure hanno il contratto ancora per un anno e non di più, credo. Vero Alessandro? Io ho sconchione di 14, 15. Forse Speranza ce l'ha ancora per un altro, non lo so. Questi giovani non si risulta. Non vuole ridicare, però mi ha fastidio a certe cose. Questi giovani, uno di vent'anni, ventun'anni, fa un contratto di quattro anni, cinque anni. Mi devi dire, incontrando per strada, socializzare con altre persone. Vanno a litigare e dicono, ma tu chi sei? E capito? Assumono questa forma di... Dice, ma non socializzano, non riescono a entrare nell'ambito della vita. Ma da fastidio queste cose qua, soltanto questo. Poi è importante anche che per ripartire, diciamo così, no Diego, per la prossima stagione, salvo clamorosi stravolgimenti, si riparte da una struttura tecnica già ormai definita, cioè il direttore sportivo Sandro Federico e l'allenatore Agenore Maurizzi, che insomma quindi sono già, immaginiamo, al lavoro, no? Già stanno facendo le loro riflessioni, le loro valutazioni per la prossima stagione. Però ecco, prima abbiamo parlato di attaccanti, però lì in mezzo e dietro bisogna tenere certi giocatori che non vanno, non sbagliamo perché penso che al 70% la squadra c'è, quindi pochi ritocchi... Se si confermano alcuni di quelli... Dietro, un nome su tutti, perché io già lo so quello che fai, poi andiamo in pubblicità e poi entriamo nel dettaglio dei nomi. Uno su tutti, dietro, chi è il tuo preferito? Caini. Perché Caini, e mi sembra che piace anche a Carlo, ne parlavamo? Sì, sì, no. Caini, Speranza, dopo l'infortunio, ci ritroveremo un giocatore nuovo. A lui piace Speranza. Speranza, sì. Però Caini... Purtroppo quest'anno si è infortunato, insomma, sulla via del recupero dovrebbe essere pronto per l'avvio della stagione. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo... E facciamo magari anche un'analisi di tutti quanti i giocatori da dove poter ripartire. Ok, pubblicità. Noi ridiamo perché... Noi ridiamo perché si scherza, si ride durante la pausa. Diego, si sono paragonato a Carnetto Mazzone, che è uno dei tuoi miti, tra l'altro. Non sbaglio, amico di Silvio, quindi... Lui passeggia con Mazzone, capito? Tutti i giorni si fa la sua passeggiata. È normale, dai. Eh, ci mancherebbe. Beh, allora Diego, ricominciamo, poi vediamo un po' anche se qualcuno di questi giocatori magari è conosciuto anche dagli altri nostri ospiti, io penso che qualcuno, sì, anche per ragioni geografiche, di concittadinanza con qualcuno. Oddio, l'unico concittadino loro se ne è andato poi? No. Chi è? Giorgi. Non è l'unico, eh, vedi, ti sbagli. Surgge qualche altro a scolare. Gravemente, gravemente. Cioè, De Grazia, no? Lorenzo De Grazia. Grandissimo giocatore, tra l'altro. Esatto. Allora, Diego, ricominciamo con questa analisi dei nomi della rosa attuale del Teramo Calcio. Allora, i portieri abbiamo detto che abbiamo Gomis e Lewandowski sotto contratto, Pacini in scadenza. Immagino che, se tutto procederà per il meglio con il recupero dagli infortuni, insomma, Gomis possa partire con i galloni di titolare anche per la prossima stagione, anche perché Lewandowski è sul mercato, insomma, lo è stato a gennaio, se avrà delle chance magari molto probabilmente andrà via. L'Ulis sui social già cammina senza stampelle. Stava procedendo a buon ritmo il recupero di L'Ulis. Secondo noi il suo recupero è cosa fatta, praticamente. Quindi, secondo te, il reparto portieri, come bisognerà intervenire? L'Ulis è Lewandowski, un altro che faccia dal dodicesimo. Pacini, dico la verità, non mi entusiasmo molto. Ripeto, sono sempre opinioni, però, insomma, per me il portiere deve avere altre caratteristiche. Diciamo che tra questi tre probabilmente l'unico a rimanere sicuramente sarà Gomis. Lewandowski deve andare via, perché quello che è successo, Lewandowski oramai è bruciato, come la vedo io, perché era titolare, con un'influenza verso i posti, non l'ha ripreso più, qualcosa lì si è sbagliato, quindi si vuole dal suo portiere. Tre difensori, abbiamo detto che i due sotto contratto sono il capitano Ivan Speranza e Matteo Piacentini, altro giocatore molto giovane, un classe 99, che ha giocato buona parte della stagione, salvo poi, insomma, nella seconda metà essere messo da parte, anche con l'arrivo di Polak in difesa. Tra i due, insomma, se Speranza, come tutti ci auguriamo, recupererà del suo infortunio e potrà tornare in campo, secondo te rimane sempre un punto fermo di questa difesa? O bisogna, insomma, iniziare a guardare oltre, perché, voglio dire, ormai anche l'età e i problemi fisici su Speranza si iniziano a sentire. Se diamo sfogo ai sentimenti, Speranza, che non si discute chiaramente, però io, dalla difesa a tre, io ho notato che Cahidi Centrale ha dato il massimo, perché il suo ruolo preciso è quello lì. E quindi per te, insomma, già anticipiamo, Cahidi va rinnovato, secondo te Cahidi va rinnovato. Però, ecco, io non vedo più una coppia, giocando a tre, chiaramente, non vedo più una coppia Speranza-Cahidi, perché lo scorso anno, con Speranza Centrale, Cahidi che faceva il Centrale di destra, Cahidi aveva dei problemi. Cahidi è forte quando centralmente guida i due, oggi si chiamano Braccetti, quello a destra e quello a sinistra, i due che sono quasi sempre stopper telsini, perché devono essere rapidi ad andare sulle fasce a chiudere. E lui è il più statico, il più centrale di tutti, quindi... Però noi non abbiamo, mister, la controprova, se fosse rimasto Speranza, come sarebbe andata la difesa. No, no, ma se rimaneva Speranza, o Cahidi non giocava, oppure Cahidi doveva fare quello che ha fatto Polak, non si discute. E Cahidi, in quel ruolo lì, lo scorso anno, non è che abbia fatto grandi cose, ha preso delle bambole, come l'ho vista io. Perché quando diventa tercino, c'ha le gambe a ricentro alto, deve andare a richiudere sulla fascia, Cahidi, vedi Esposito con la sabbia delle tese, vedi tanti altri... Va in difficoltà. Io la vedo così, se analizziamo a livello, insomma, di... bene, tatticamente, il ruolo. Poi, chiaramente... Quindi abbiamo detto, Piacentini, invece, sotto contratto, anche se si dice che possa anche essere, insomma, sacrificato, lasciato partire... Io lo terrei, è un giovane, sicuramente avrà più spazio, ha fatto un anno comunque, anche se... Io lo terrei, Piacentini, perché comunque bisogna sempre... Cioè, è un giovane di belle speranze, quindi bisogna lavorarci... Che ci sono però altri nomi che forse... Il miglior giovane dell'intero campionato, perché è stato votato così da, insomma, gli esperti e gli addetti ai lavori, è stato Fiordaliso, che è un giocatore in prestito dal Torino... E che, secondo me, non resterà... Alla casa madre, nonostante, insomma, aveva dato un ottimo contributo anche in termini di gol, perché ha segnato tre reti, questo ragazzo nel 99, prima stagione tra i professionisti dopo l'esperienza nella primavera del Torino, tre gol, tornerà al Torino e probabilmente, insomma, può dar sì che anche verrà dato in Serie B, insomma, sicuramente potrà fare un salto di carriera. Che l'abbiamo detto anche quando è stato nostro ospite, che secondo noi, secondo i tecnici soprattutto, questo ragazzo, secondo me, farà carriera. C'ha proprio le caratteristiche, anche umane, secondo me. È cresciuto tanto rispetto al giorno d'andata, aveva le basi, viene dal Torino, stava alle soglie della prima squadra, era nella rosa con... dove va? Con Mazzarri. Mazzarri lo considerava molto, quindi... Però si sa, quello non ci speriamo più, perché era un prece, quindi quello non esiste, insomma. Due nomi, i due esterni, Ventola da una parte, Celli dall'altra. Ventola è in prestito dal Pescara, tornerà anche lui alla base, bisognerà capire, insomma, se ci possono essere delle chance di poterlo riottenere anche l'anno prossimo, in base anche alle volontà del giocatore. Celli in scadenza di contratto, lì bisognerebbe trovare eventualmente l'accordo col giocatore. Cioè, sembrerebbe un giocatore che era dita a Maurizio, lo è di fatto, perché è un giocatore. Celli è un signor giocatore, un giocatore che a cambio di passo, tiro, sulla fascia si fa rispettare, è bravo anche in marcatura. La stessa cosa dico, se di Ventola è più portato ad attaccare, meno portato a marcare, ma quando si ritrova da dietro un Polak, per dire, ai tempi nostri, un cavallone terzino, per esempio, lui può andare, perché tanto a dire c'è qualcuno che lo corre bene. Tu li terresti tutti e due? Io terrei Polak, lo terrei. Anche Polak. Polak è espertissimo e si è sentito, perché è lento, che significa lento? Polak è quello che ha 300 partite sulle spalle e non è l'ultimo arrivato. Quindi io terrei Celli a sinistra e Vendolo, se Pascara ce lo ridanno, non lo so, perché sono due sterli tra i migliori del campionato. A te questa difesa ti piace? A me la difesa piace, secondo me dobbiamo succedere solo il torno di Chordaliso, con un giocatore come lui, perché la squadra sta bene. Gomis si importa, con un buon dodicesimo, perché io ho paura, sono un pessimista, Gomis ha avuto un infortunio molto grave. Il distacco del tendine rotuleo, lo ricordiamo. E lui è un giocatore con una massa muscolare molto... Però è dimagrito, dopo l'infortunio è dimagrito. Però dobbiamo avere un dodicesimo all'altezza. Dobbiamo avere un dodicesimo all'altezza, come ci siamo ritrovati Gomis, che non stava giocando quando Lewandowski... perché se non avessimo avuto Gomis avremmo avuto grossi problemi, secondo me. Certo. Ovviamente i nostri ospiti appena vogliono intervenire possono dire la loro in qualunque momento, e anche sui giocatori, se conoscono alcuni di questi giocatori vogliono dire la loro. De Grazia, lui è di Ascoli... Adesso passiamo infatti al centrocampo. Partiamo da De Grazia direttamente. L'ascolano che aveva dimenticato Dorotea e Lorenzo De Grazia, Silvio... Quello lì, eh. Silvio, Carlo, Tonino, lo conoscete? Di Grazia, come ci ho visto, ci ho visto giocare di Grazia, 8-9 volte, è un giocatore che poteva fare di più. Ha giocato sicuramente un ottimo girone all'andata quest'anno, per poi calare un po' nel girone di ritorno, ma è essere molto utile Diego anche in funzione tattica, no? Quando è stato schierato trequartista alle spalle dell'unica punta, ha dato una grossa mano... Qua sui giolli, De Grazia è il giocatore che va baciando... Ha giocato Messala, il giocatore è quartista... Sì, è innamorato della palla, però... Sì, è innamorato della palla, però... Sì, è un pochino, è una caratteristica da correggere questa. È un pochino, è un pochino, è un pochino, è un pochino... L'unica critica è che gli viene mossa dagli spanti... Però il girone di ritorno... Però è anche un centrocampista da cinque gol, insomma, quindi è sicuramente... No, 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 no... No, 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 no... No, noi abbiamo visto una volta, due volte, quindi non posso giudicare, però si vede al primo occhio che... Che può dare assolutamente il suo contributo come ha dato quest'arte e l'anno scorso. In Dalicino ne deve buttare... È un bel giocatore, io lo terrei portare io. Un giocatore non... Altro giocatore dunque in scadenza su cui la società potrebbe, insomma, dovrebbe riflettere, insomma, per la conferma. Abbiamo detto che l'unico in sottocontratto è Persia. giovane che viene dall'Avezzano l'anno scorso in Serie D ad Avezzano quest'anno il primo anno salto tre professionisti Diego possiamo dire è stagione positiva fin quando è stato disponibile poi nell'ultimo periodo ha avuto dei problemi di pubalgia che lo hanno frenato tirandolo fuori dalla prima squadra che lo ha portato perché non dimentichiamo che lo ha portato Capaldi se non sbaglio soprattutto lui conoscendo bene i giocatori di quell'area geografica della Marsica è un bel centrocampista a pubalgia purtroppo il campo nostro è stata una delle migliori sorprese di questa stagione stava facendo bene poi purtroppo il ragazzo è stato sfortunato perché poteva dare ancora tanto però è un altro giocatore da tenere è sotto contro gli stiamo praticamente tolto un portiere tenendo tutti Diego Finos ma sì perché la squadra purtroppo Fiordalito ma non dipende dal termine no Levandowski come Silvio Levandowski è parente di quello di Levandowski no no è solo omonimo è solo omonimo è omonimo sì per partire sempre nell'analisi dai titolari diciamo così proietti proietti giocatore sicuramente molto importante una colonna del centrocampo del Teramo poi magari tu spesso hai avuto come dire a volte da ridire anche sulla sua collocazione tattica non sul giocatore ovviamente io sono dell'avviso che quando c'è una difesa a tre in modo particolare con i due stagli che attaccano devi avere un metodista davanti alla difesa semibloccato che sta lì che fa da filtri ai centrali e raddoppio su tutti invece è primo libero ecco bravo è primo libero proietti è più mezzala cioè se proietti in quella zona lì soffre nella fase di interdizione in quella zona lì purtroppo io dico c'è sempre un mediano mezzala vuole che sappia marcare perché se l'avversario c'è un trequartista e te lo ritrovi lì lo devi marcare e proietti l'abbiamo visto che ha avuto dei problemi quando si è ritrovato un trequartista da marcare quando a distanza ha marcato l'altro proietti avversario l'altra squadra a distanza io gioco per la mia dico bene tu giochi per la tua ma quando si gioca con un 4-3-1-2 le scuole a rombo ci hanno messo in crisi abbiamo visto che in quella zona di campo c'è una mezza punta e lui è un giocatore poco portato a marcare perché è un po' a piccioni per dire e lui va in crisi Grubac quello lì del coso ci ha messo in crisi i mosti ci hanno messo in crisi tanti ci hanno fatto però ci ha fatto vedere anche delle belle partite insomma la qualità tecnica di proietti non si discute io ho quello di Ranieri mandato via io vorrei un giocatore così tipo Ranieri e un proietti vicino a De Grazzi in mezzo al campo uno di qua e uno di là al netto di ciò dunque proietti il giocatore in prestito dal Pescara magari ce lo ridanno che accadrà insomma la sua volontà anche però prendiamo un bel mediano incontrista che morde quindi a cattuso bravo a cattuso quindi sul mercato tu andresti su questo tipo di giocatore Spighi Spighi giocatore in scadenza anche lui secondo te mi dici ma li confermi tutti e lo spigolo lo confermo sì perché c'ha un cuore grande è un guerriero e a me i giocatori così mezzo acciaccato poverino dà l'anima ha sempre dimostrato attaccamento grande voglia io gli farei il contratto a vita perché è un ragazzo attaccato alla maglia oramai non c'è niente da fare al mister Gaidi piace ma piace a tutti ma tutti bravi ragazzi ma è un generoso da tutto io lo vedo sembra che è nato a terra proprio attaccato alla maglia e va al di là questi giocatori qua non si andano via Spighi Gaidi questi giocatori qua Speranza come eravamo noi come eravate voi come era Tonino Piche come era quel nucleo su cui puoi costruire intorno gli altri giocatori come era Capitano Silvio che altrimenti non rimanevate quattro anni quattro anni e poco più con la stessa maglia se lui desidera che rimangono ma quelli che vanno fuori chiederebbero è quello che stiamo cercando di capire secondo il mister perché finora quasi tutti ti confermerebbe io ho detto che vorrei una bella prima punta ho detto un bel difensore sinistro che abbiamo detto due o tre giocatori è un mediano è un mediano che morde è un mediano che morde tutti i giocatori un mediano che l'allenatore no l'allenatore non sto a scherzare l'allenatore l'abbiamo già detto lo conosco io l'ha confermato perché questi giocatori li ha portati lui la squadra è cresciuta inizialmente qualche problema l'aveva avuto ma non è che lo dico io l'hanno visto tutti poi l'ha aggiustata c'è squadra gli sparacello la punta Celli tutti buoni lo stesso per chiudere col centrocampo Diego gli ultimi due arrivati nel mercato di gennaio sono stati Armeno e Spinozzi Armeno e Scadenza perché gli è stato fatto il contratto fino a giugno Spinozzi in prestito dalla Roma con questi due cosa faresti? io non li confermerei prenderei qualcosa di meglio con tutto il rispetto perché loro hanno dato quello che potevano dare però per farla come dicevano andavano con i frati e zappavano senza offesa per nessuno che sono stati dei comprimari all'interno del gruppo più giocatori e dei titolari avete visto che stiamo cominciando a eliminare qualcuno dopo il portiere siamo passati altri due che è il mister chiudiamo chiudiamo questa carrellata con gli attaccanti possiamo fare il calciotto a otto otto ci siamo chiudiamo con gli attaccanti Infantino Sparracello e un'onfermati perché comunque sono anche giocatori tra virgolette di Maurizzi legati all'allenatore insomma Barbuti è sotto contratto perché l'estate scorsa ha deciso di spalmare comunque il suo ingaggio Barbuti lo so ci vuoi io con un altro attaccante che possa dar fastidio a quei due pronto ad entrare perché Barbuti oramai è un bravissimo ragazzo ha dato quello che ha potuto dare ha visto poco il campo e quindi non possiamo più contare su di lui gli altri due Zecca che era in prestito dal Sassuolo quindi tornerà anche lui al Sassuolo io lo terrei c'erano molte aspettative su di lui all'inizio stagione ha fatto vedere anche qualcosa di buono la tripletta la San Benedettese in Coppa Italia per esempio poi poco altro si è perso un po' per strada però se tu ricordi bene contro la Samb gioco da ala tre gol c'è ala destra con la fascia una bella falcata lui ha una bella falcata una bella corsa se lo fai giocare a punta non c'è la corsa spezzata c'è la corsa dritta e quindi è come un ala che lo fai giocare è come Carlo che ha anche giocato centroavanti però lui era una classica ala destra lo stoppio da centravanti tu sei cattivo poi questa battuta ce la spiega Silvio perché ha un fondamento ha un fondamento questa battuta raccontacela subito lui che era il braccio destro dell'allenatore il capitano che è successo? se si può raccontare no 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 l'alleatore lui è un tornante a destra bravissimo giocatore all'alleatore chi? l'alleatore era Orassi mi parla no per cognomi Feliciano? mi sbaglio e niente ho troppo presi e gli disse oh Carlo vedi un po' prova un po' stopper dopo una carriera da alta stopper dalla destra o c'entra avanti stopper? no mi disse ma in che ruolo giochi? ha preso la squadra e nemmeno sapevo non ti conosceva non mi conosceva no perché io ti vedo bene stopper va bene la tua risposta no è una partita ci prova contro quel povero grande amico Davi che è entrata infortunio ci prova e lui ti vedo bene non mi dispiace te la cavi e io ho lasciato ho abbandonato hai cambiato come si sa con io mica come ti si importa è uguale esatto però purtroppo capita anche questo va bene c'è qualche allenato che ha delle sue idee però non è un amico no molto lui perché io parlo in faccia giusto però non sei un amico sì sì e tu li potevi risparmiare questo no non avrei parlato prendila come aneddoto dai è un aneddoto potrei parlare di altra gente abbiamo scherzato dai poi si rifarà Carlo tra un po' e ce ne racconterai qualcuno un'aneddoto lo racconto io dopo va bene e tu dove che parli tu in Siribin ci vuole meglio no a me mi disse la maga di Porta del Pilio addirittura la maga di Porta del Pilio la maga ci portò la squadra di Asco ci portò a Sto del Pilio perché o per sfortuna o per cose perdevamo i partiti allora qui ci hanno l'inviato addosso e ci portò giù si chiamava tu lì? Pasqualina Pasqualina la maga Pasqualina di Porta del Pilio ti portò a Sto del Pilio io stavo lì e ridevo è il turno mio e tu dentro mi fa ma perché ridi? no ci ha raccontato ma perché ridi? tu non credi? a me non mi credi giù io non credo io ridevo per lei io ridevo si è creato un ambiente un po' andò in trans tu non giocherai mai in nazionale è lo so non ci serviva la maga insomma non ci serviva la maga se sei io mi disse hai sentito quello che ho detto? ma tu lo sai io non so io non so Pasqualina mi ha dettato troppo da pazza Pasqualina Pasqualina no si porta la scuola che è rimasto la Pasqualina lascia perdere tu non hai giocato in Serie B invece Carlo ha giocato in Serie B per anni ma chi amare aveva il procuratore Carlo non c'erano quei tempi non esistevano i procuratori non esistevano come oggi appunto i rapporti diciamo prima no tra i giocatori e le società chiudiamo velocissimamente l'ultimo giocatore che era rimasto in questa carrellata è K anche lui io non sono Marco Zuri io dico sei un analista un osservatore tecnico K in scadenza di contratto io mi tengo Zecca tu hai detto insomma K a Zecca la resti un'altra chance sì sì a Zecca sì e in più un attaccante di sostanza a livello anche di realizzativo di gol no? da affiancare allora per ricapitolare secondo mister Diego Di Feliciantò i giocatori che non servono a questo al termo del futuro sono Pacini a parte Fiordaliso che ci servirebbe Fiordaliso va via la difesa non abbiamo citato tre difensori Altobelli e Mantini che sono in scadenza entrambi vanno via anche loro allora mettiamo i due poi abbiamo detto Armeno e Spinozzi e poi abbiamo detto Barbuti e K Barbuti e K ecco così va questi da sostituire con diciamo tre elementi importanti pronti a giocare in una squadra a tenarsi ai titolari un dodicesimo un difensore un centrocampista un attaccante ma chi era un altro un altro giocatore che avete nominato no li abbiamo nominati tutti no volendo no c'è qualcuno che abbiamo dimenticato chi abbiamo dimenticato forse Giorgi ah Giorgi ok ma lui ha presciso il contratto prima già non è più però visto che ci sono c'è un Ascolano citiamo anche Giorgi che qualche partita non l'ha riconfermato no no Giorgi ha proprio rescisso il contratto prima della scadenza qualche settimana fa è importunato con il ragazzo le valutazioni su Giorgi Diego le abbiamo fatte più volte durante la stagione anche insieme a mister Maurizzi eh non più tardi sì ma Giorgi come giocatore non si discute quanto stava bene però Giorgi poi loro lo sanno benissimo magari Silvio non si esprime perché è una scolata però Giorgi era infortunato non stava bene quindi veniva da oltre un anno di inattività diciamo e quindi poi si vedeva in campo e quindi io non è che ce l'avessi con lui è un giocatore che ha fatto tanto certo giocatore di sostanza assolutamente se non stai bene puoi essere pure maradona se non stai bene non stai bene quindi è vero vogliamo vedere se ci sono alcuni messaggi Cristian Cristian De Luca in regia facci segno indicaci tu se siamo pronti con qualche messaggio così prima di andare in pausa allora facciamo una cosa Cristian se per te va bene ho visto quanti messaggi ci sono ne leggiamo due diamo le risposte poi andiamo a pubblicare gli altri li portiamo nell'altro blocco va bene allora due messaggi un saluto ai mitici amici di succulente cenette a casa di Carlo saluto a Diego buonasera a tutti lo dice Roberto 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 pannella Roberto è una scuola è una scuola no è di colonnella perché noi abbiamo saputo di cena a casa tua di Solondria questa taverna questa casa di Carlo noi dobbiamo venire più che altro a capire che cosa fate con il presidente assolutamente sì cioè noi siamo curiosi di capire cosa succede quando questo il nostro Diego quando viene a casa tua poi torna bisogno di tre giorni di stop per ritornare che succede? c'è uno chef un amico Mario lo chef Mario è un ambiente bellissimo perché tutti gli ex giocatori dell'Ascoli della Samb addirittura Bologna Pecci Borinsegna e noi umili terramani che Carlo non gli ultimi arrivati che Carlo poi Gianni Gasperi grande amico altri nomi personaggi storici tutti amici dei nostri tempi Vincenzo D'Antonio è un piacere una bella chicca di forchettone scusa se ma Tonino è silenzioso anche quando sta accendo con voi Tonino è silenzioso che sia Tonino è più semplice che sia Roberto a questo punto dobbiamo mandare perché anche loro sono clienti del mio bar mio bar del bar dello sport è ben sport bravo quindi salutiamo toverosamente aspettate che tra poco arrivo alla fine della trasmissione Carlo sta da voi c'è da dire che al bar che stavamo menzionando stasera c'è il pienone dice che posti tutto un gruppo d'ascolto ad aspettare i grandi del calcio ieri ci straniamo ce lo auguriamo se posso dire altri amici come no italo di Giovanni cipro Giancarlo Politello cicillo esposito portolo ma scusa hai una reggia per tutta questa gente dove la pesa no no però c'entrate tutti vi stringete ci stringiamo ma no no non si sa stringere non fossi l'unico perché si è uno stringere e questo mi preoccupo allora un altro messaggio andiamo con un altro messaggio e poi andiamo in pubblicità Teramo non vi dimentica e ve lo dice Mirko grazie Mirko salutiamo Mirko grazie Mirko grazie grazie che non dimentica queste tre colonne della storia del calcio del calcio terramarico che ci stanno facendo compagnia questa sera allora ci fermiamo adesso pubblicità seconda pausa pubblicitaria eccoci di nuovo insieme riprendiamo dai messaggi che ci avete mandato da casa qualche messaggio degli amici da casa che ci daranno spunti ancora chiedo al mister di Felice Antonio di suggerire al presidente e a Federico di riportare a Teramo Borrelli anche nella gara playoff contro il Pineto è stato il migliore in campo parliamo di Borrelli della Re Canatese che domenica ha eliminato il Pineto dai playoff di San Riedi ex Teramo Calcio Borrelli forse un po' in là con l'età adesso Borrelli ha giocato con noi l'anno della vittoria del campionato di Serie D insomma vinse il campionato di D con Cappellacci in banchina Borrelli non si discute come giocatore però come dici tu ha qualche anno e poi secondo me la Serie D la Serie C è più di una categoria di differenza la C almeno il giro è nostro quindi non lo vedo insomma in Serie C non si discute tecnicamente è un bellissimo cernocampista un bravissimo cernocampista però a Teramo c'è stato lo conosciamo bene classe 85 quindi ha quasi 34 anni per la Serie C insomma c'è bisogno di chi anche perché poi lui è un trequartista pure classico trequartista quindi non so se Teramo si può permettere con il 3-5-2 di avere il trequartista dovrebbe cambiare il sistema di gioco dovrebbe fare un 3-1-2 a Rombo quindi non rientra proprio nel ragionamento tattico della società a proposito di playoff visto che adesso abbiamo citato i playoff di Serie D che sono stati particolarmente favorevoli alle marchigiane perché sarà la finale Mateli Canre Canatese non sono stati invece amici in Serie C delle marchigiane perché è eliminata la San Benedettese ad opera del Suttirol ecco qua la grafica ecco qui la grafica dei playoff il primo turno il Suttirol ha battuto la San Benedettese 1-0 la Fermana è stata abbattuta 2-0 dal Monza 1-1 tra Ravenna e Vicenza dunque eliminato il Vicenza per il piazzamento in classifica quindi al secondo turno che si giocherà mercoledì sempre in gara secca accedono Ravenna che incontra la Feralpi Salò che entra in gara in questo secondo turno si gioca a Salò e il Monza ospite invece il Suttirol questi gli accoppiamenti del secondo turno playoff in programma mercoledì ancora un turno interno del girone prima della fase tra i vari gironi la fase nazionale del playoff andiamo ancora avanti con gli altri messaggi sì arrivano ci siamo sì sì tre grandi calciatori e stupendi amici guardate un po' chi ve lo scrive puri Gian lo conoscete eh certo eh anche lui è uno dei vostri commensali a tavola non ci mangia nessuno tutti 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 andiamo con un altro salutiamo il bomber ovviamente grande bomber sì ancora un messaggio e poi evidentemente vi faremo sempre forza Teramo complimenti e arrivederci alla prossima però aspettate vogliamo approfittare leggendo il nome di Stefano Pauselli sì Stefano Pauselli che ha giocato con il Teramo sempre puntuale ogni lunedì sera ci fa un piacere in mezzo tra l'altro da Perugia quindi insomma allora approfittiamo bravolarmente felici vogliamo approfittare di questo momento perché credo ci sarà anche Stefano Pauselli per ricordare l'importantissimo appuntamento del primo giugno allo stadio Bonolis di Teramo dove si giocherà la partita del cuore per ricordare Mirko Mazzagatti ad un anno dalla scomparsa purtroppo ci saranno tanti giocatori del Teramo Calcio che hanno giocato con Mirko ma anche giocatori che non hanno giocato con Mirko e che vogliono venire a salutarlo idealmente per cui sarà una giornata di grande festa una giornata importante il prezzo e il biglietto è anche simbolico insomma nel corso anche dei nostri giornali vi daremo tutti i dettagli però appuntamento per il primo di giugno allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo a partire dalle 17 ci sarà anche una partita di calcio che potrete rivedere per quelli che ce la fanno credo in tanti verrà anche Gigi Del Neri sì verrà anche Gigi Del Neri per quelli che ce la fanno rivedrete in campo i giocatori degli anni 90 80-90 88-90 tutti quelli che hanno giocato con lui che hanno le due Pausselli è uno di loro lo rivedremo in questa occasione lo salutiamo Stefano ti aspettiamo per il primo giugno e grazie ancora per l'attenzione che ci riservi sempre ogni lunedì un abbraccio veramente affettuoso vogliamo adesso come dire aprire questa pagina che stasera è davvero speciale perché di Amarcord ne abbiamo ben tre questa sera con noi come dire a suggellare questa rubrica questo angolo che abbiamo introdotto quest'anno nella nostra trasmissione che insomma ci ha fatto davvero riscoprire tanti campioni del passato del Teramo Calcio li ha fatti anche riscoprire rivedere ai nostri telespettatori ai tifosi in alcuni casi anche davvero delle chicche dobbiamo dirlo che ci sono state delle chicche grazie come sempre in particolare agli amici del Calcio del Ramano a Vincenzo Di Antonio su tutti per la collaborazione questa sera io vado da loro avvicinati da loro perché intanto preferisco stare avvicinati a loro che avvicinati a te anche perché noi potrei dire anche io la stessa cosa con la collaborazione dei miei amici io e Diego tenteremo tra virgolette il colpo di stato lo sapete ci proviamo voi che dite qual è la coppia migliore secondo voi dai dite la verità è da pensarci no 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 ti torno subito dall'imbarazzo la coppia migliore è Dorotea Diego apposta già risolto il problema assolutamente io e tu penchiamo sempre gli stessi colori stasera il verde speranza trovate un nuovo lavoro addirittura lo facciamo fuori anche dal direttore mi riposo mi riposo assolutamente di riposo allora andiamo a ripercorrere la straordinaria carriera di questi tre grandi vogliamo prima vederci le immagini e poi speriamo di farli anche commuovere vai immagine pescata agli archivi eccola qua grazie ho partecipato a una bellissima serata incontrando tre ex calciatori Carlo De Cristofaro Silvio Camaglioni e Tonino Picca bene da quando avevano lasciato Teramo io non li avevo più visti né sentiti erano passati quindi dei decenni eppure è stata subito una festa veramente una gioia alla prossima Grazie a tutti. 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 Successe che ad Andrea Teramo rigore e ricordo che avevamo sbagliato sette rigori, tutti i migliori giocatori. Diciamo in quella stagione sette rigori sbagliati. Perché non perché magari si possono offendere. Quindi nella borgia di anni rigore, il pallone non era di cuoio, era di fuoco. Tutti, tutti i migliori giocatori. Tutti i migliori giocatori. Da una parte, il portiere dall'altra, il gol del 3-1 dei bimbi, la festa della promozione, quella fu la vittoria del camionato che riportò il Teramo in Serie C dopo tanti tanti anni, no? Tanti anni di attesa. Diego, che vogliamo dire? E' stato allenatore delle giovanili, chi avevi? No, 73, purtroppo arrivamo secondi dei rubati contro il Pescara di Tom Rosati. Giusto. 30 partite, 12 gol. Poi con Orazzi, l'anno della Cavalcati in Serie D, 25 partite e 5 gol. Poi con Fantini in Serie C, 74-75 e 10 partite. Per un totale di 120 partite e 28 gol. Corrispondo, no? E' giusto. Un bai, un bai, un bai, un bai, un bai. Poi tu, Diego, togli sempre qualche gol o qualche partita a tutti quanti i nostri ospiti. Non dobbiamo capire perché. Mi scuso se... Se succede, Diego, si scusa. Era un giocatore di grande temperamento, un'ala guzzante, rapida, che faceva impazziti. C'è Silvio che corre, ma tutto quello che dice. Come, Silvio? Lui, a me, 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 a me. Un giocatore, ricordare, un gol importante contro il Pescara, una delle prime partite di campionato, che dopo cinque minuti segnò Tonino, purtroppo al novantesimo, Rigoni, maggiò per il Pescara. Poi fumo derubati al Pescara per un gol non gol, famosa partita, un adriatico con 12 mila spostante. E niente, un giocatore importante, è rimasto cinque anni a Teramo e nel cuore di tutti i tifosi bianco-rossi. Poi passiamo al nostro grande Carlo Di Cristofaro, il quale a Teramo ha giocato un anno solo, però lui l'ha detto tante volte, è l'anno più bello che lui ha fatto tanto calcio importante nel calcio che conta. Lui veniva dal 63 da 4 nella primavera dell'Inter, allenatore, non so se è poco, un certo Meazza, lo stadio Sanzino è intitolato a lui, con giocatori come Bedin nella squadra di Martino, Gori, Facco, Codognato, Boninsegna, Mazzola, Ferruccio. E quindi questo la dice Lunga sulla sua sostanza tecnica. Poi a Doha d'Alessandria in Serie B, con compagni facendo un ottimo camminato di Serie B. Ti posso fermare? Prego. Perché abbiamo una chicca. Perché a questo punto di vista abbiamo qualcosa da far vedere ai nostri telespettatori. Un'altra sorpresa. Quando Carlo giocava con l'Alessandria. Lo dico e poi lo vediamo. No, lo vediamo e poi lo spieghiamo. Cristian, facci vedere questa clip per Carlo. Vediamo. No, lo vediamo. No, lo vediamo. C'è la cosa bella che la stanno commentando, la stanno rivivendo come se fosse partita di oggi, come se fosse stata giocata ieri. Però lui che cosa gli ha detto? Abbiamo visto. Si prendono in giro. Sì. Ma che era un gol? No, posso dire che era un gol? Ha fatto la parola il portiere. Diego, che cosa abbiamo visto? Allora, devo dire una cosa. Dissacrante e invidioso. Sì, convidioso. Va bene. Andiamo avanti. No, quello era un gol. No, non andiamo avanti. No, dobbiamo spiegare cosa abbiamo visto. Allora, abbiamo visto una partita di Coppa Italia, camionato del 64, 6 settembre. Alessandria a 1, Juventus 2. In bandaggio all'Alessandria con Di Cristoforo, il gol che abbiamo visto, numero 7, al 21esimo. Pareggio di Menichelli al 42esimo e Stacchini all'84esimo. La formazione della Juve. Anzoli, il Gorisarti, Castano, Salvatore, Leoncini. Stacchini, Dersol, Combine, Sivori, Menichelli. E Carlo ha avuto l'onore di far gol a questa grande squadra della Juventus. Vado avanti con Camionato Ad Alessandria nel 64, con compagni di avventura come Suncini, Bettini, Ragonesi, Migliavacca, giocatori importanti dell'epoca. Poi nel 65 e nel 66 ancora Ad Alessandria in Serie B. All'attore straniero ci avevate un ungherese, mi sembra. Zecchili. Zecchili, bravo. Con Loiacono, il tuo grande amico, Loiacono, Francisco Ramon, ex giocatore della Fiorentina della Roma e della Nazionale Italiana. Giusto, giusto, giusto. Ecco, con l'amico Tagnin, campione d'Europa con l'Inter di Herrera, Nicolè, ex Juve, Codognato. Questi erano i compagni di avventura del grande Carlo Di Cristoforo. Poi nel 66-67 a Livorno in Serie B, 66-68 Livorno in Serie B, giocato con un ex giocatore del Teramo, Calvani. Calvani, terzino. Vittorio. Masca Laito, questi qui. Poi a Savona in Serie C, e mi sembra che abitare al Bissola. Al Bissola per noi è triste. Eh, dove è stato il giusto? Anche Savona, c'è proprio tutta la zona. Ricordate, è triste. Anche quella tra l'anni la vorrà. Quindi Savona in Serie C, Latina in Serie C, Cosenza in Serie C, ancora Cosenza in Serie C, e poi Teramo in Serie D. 30 partite e 10 gol. L'ho lasciato un intermedio, Casale Monferrano. Eh, Casale lo dimentica. Eh, va bene. Sto mettendo a dire qualcosa di stile a tutti i perdi sempre, non fa niente. Per un totale di 200 gare, 12 gol. Bravo. Una grande carriera. Bravo, grande carriera. Adesso andiamo al capitano storico. E chiudiamo, chiudiamo. Anche se la vedo lunga stata. Il segno Camaglioni è il mitico capitano del Teramo. Degli anni belli del Teramo. Camionati esaltanti, di Serie D, tutti bellissimi. Purtroppo un camionato rubatoci dal Pescara, lo posso dire. Un altro rubatoci dal Barletta, dal grado di gol di Cipro che ci tiene la vittoria a Barletta. Giusto. Tutto bene. Poi finalmente, all'autorera della Penna, finalmente l'anno di ritorno in Serie C, Feliciano Razzi. Un'annata trionfale, bellissima. Poi dopo, nel Teramo quindi, 80 partite con tre reti. Poi affermo, nel 69-70, un anno alla fermata. Ma a Teramo che? Quattro anni a Teramo. Quante partite? Di più, di più, di più, di più. Sono 120, più di 120. Sono più di 120. Sbagliate. Sbagliate. Va bene, scusami, mi sono tolto. E, se intrasi. Ma lo fa... Come la pari? Secondo me non è apposta. Secondo me non è apposta. Ha fatto sempre a sbagliare. Secondo me non è apposta perché li stai provocando. Allora, ti dico di più. 126. Tu l'hai fatto? 126. Giusto. No, non dico di più. 10 gol. Va bene, dai. E ti tranzano tre volte. Ha detto una serpentina che ha sbagliato. No, no, stai lì, stai lì al libro. Va bene. La motivazione è quella. Comunque, per un totale tra Ascoli, Fermana, Teramo, poi a Lanciano. Francavilla. Francavilla. Per un totale di 250 partite e 12 gol. Lo giro, apposta. E quindi saltate... Un po' di più di gol, un po' di più di gol. L'Ascoli sei gol, dice. Io mi ricordo, ad Ascoli il gol di Lecce, il gol contro l'altra squadra. A Siracusa, 3 a 0 vinceste. Brava, brava. Va bene. E poi non dimentichiamo che Torino Pica e Silvio Camaglione hanno vinto anche due tornei gadare. con l'Ascoli e con te. Beh, insomma, a confermare quello che dicevamo prima. Con l'Ascoli, allenatore insieme, Mazzone. Assolutamente, insomma. Le fotografie che ne facciamo delle fotografie. Se vogliamo mostrare rapidamente, facciamo dire brevemente qualcosa, insomma, a loro... Ma no, non ci tengo. Qualcosa... Sì, ne facciamo vedere le foto, a partire da Tonino, insomma, qualche ricordo particolare, qualche... Eh, ma io spero di... perché, come si fa, Diego? No, se ti metti dietro a me, magari... Certo, vedete. Di quegli anni lì, facciamo... Vai, vai, tu alza la vediamo, magari... Magari, ecco qua. Ecco qui. Questa. E per farla vedere lì, dicevo. Qua. Allora, questa... Bastameli tu e io le faccio vedere. Questa qui è... si vede? No, no, ci penso io. Questa è quella, ecco. Ecco, qui è il capitano con la figlioletta in occasione della partita dell'ultima di camionato. Bellissimo. Siamo tornati in... Ma questa è 100 partite col terra. Sì, sì, ma però questa è la foto dell'ultima gara. Bene, questa è la prima. Hai ragione. Mister, consegnami la prossima. Qui invece troviamo il grande Carlo di Cristoforo con un grandissimo amico suo, amico della sua taverna che viene spesso a trovare. In cantina, eravamo in cantina. In cantina, con bagno di squadra. Buon insegna, buon imba. Guarda è Carlo, questo a destra? Non mi fanno ridere che trema la foto. Buon insegna, buon insegna. Ok, prossima foto. Ancora qui una foto di Carlo con Ferruccio Mazzola, l'indimenticato Ferruccio Mazzola, il fratello di Sandro, giocavano insieme nella prima vera dell'Inter. A posa. Perché ci siamo. Sì, sì, ci siamo. Prossima. Ah, guarda qui che stighetti. C'è Picca, Pittorino Picca e Carlo Di Cristoforo, sembrano due attori di Hollywood. Che tipi, che tipi. Dove stavano? Dove andavano? Qui di Cristoforo. Scusa, dove stavate? Non so se hai capito. Bravo, caro. Quelle frate. Complimenti. Qui ancora Picca con Sergio Dagiandi, dei tempi del Teramo. L'ho più visto, Dagiandi, sparire. E vive a Teramo? Non lo so. Sì, sì, c'è un negozio di ottica. L'ho visto mai. Insieme a Sergio Dagiandi, qui del... Mondirone, non lo so più. Questa è la tua... Sì, prossima foto. Ecco la tua foto con i grigi dell'Alessandria, insieme a Carlo Di Cristoforo. Oddio, oddio. Bella questa foto. Tipo figurina, no? Forse è stata scattata come figurina, vero? Questa qui, sempre Carlo con la maglia dell'Inter, nella partita di campionato. C'è un buon vantaggio questo? No, no, questa è... Bella, questa è una foto veramente bella. Il capitale è dissacrante, eh. È la foto del Gataleta. Questa è bella. La foto del Gataleta. Quando vincevi il Gataleta. Pica e Silvio. Ci sta pure mia moglie, ora. Quando la voglia sta a piacere. La foto è sempre dietro. Bella, eh. Ci sono tanti personaggi che... Questa è sempre... Questa è la squadra di record. Tutte le partite, quindi in casa, si è contro. E poi volevi dire... Ma hai tolto la... La chicca, eh. Volevi raccontare questa cosa. Volevi dire che... Possiamo... Possiamo andare da... Le porto via io così non ti... Che cosa... Tonino, se volevi raccontare questa cosa, di questo record, che cosa ti ricordi di quella squadra, di quella stagione? Era il secondo anno e vincevamo tutte le partite in casa. Tutte? Perché anche la domenica sportiva... Lo sottolineavo. L'euro di Tagliano. E fu una cosa... E arrivamo secondo dietro al Barletto. Non bastò vincere tutte le partite in casa. Era la legge del comunale. Non si discutiva. Non si discutiva. Una volta era veramente un fortino. A mamma vuole giocare. Carlo Di Cristoforo, che giustamente diceva Diego, insomma, in quell'unica stagione a terra, però anche in questo caso è rimasta nel cuore, no? Certo. Sono Terramano, nato a Colombiano. Nonostante tutti quei nomi che abbiamo sentito, che hai frequentato sui campi di calcio, che hai avuto come maestri, come compagni. Non ho dimenticato la terra nativa, quindi sono rimasto a Colombiano e va bene così. Io volevo ricordare quell'anno lì che lui tirava in porta e io segnavo. Lui tirava, spingeva il portiere e io... Quindi molti gol, non merito di calcio. Era una bella coppia. Una bella coppia, sì. Grande Tonino Picca, super mister. Super mister. Chissà chi lo ha scritto. Usa chi è l'arco. Questa pizzeria l'arco di Mazzigliano. Salutiamo tutti i locali, bar, le pizzerie che ci stanno guardando stasera. Grazie ai nostri graditissimi ospiti. Ai nostri meravigliosi ospiti che frequentano tutti quanti questi posti. Noi siamo veramente in conclusione. Ce l'abbiamo fatta anche questa sera. Sì, 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 in conclusione, anzi, già stiamo andando oltre il tempo lecito che ci è concesso. Dobbiamo ringraziare, ovviamente. Sì, ovviamente. Veramente è stata... Grazie a voi per l'invito. Pino Tortora è in campo il primo giugno al Bologno. Ci arriva questa informazione. Sì, c'è anche Pino Tortora. Sì, avevano forse qualche organizzatore, perché io sapevo che l'avevano contattato. Evidentemente ha dato l'ok, la conferma. La prendiamo come una notizia. Grazie, grazie per averci detto. Per cui ricordiamo ancora una volta, il primo giugno non potete mancare, perché si ricorda un grande ragazzo, un grande giocatore, che è Mirko Mazzagatti, e ci saranno i suoi amici, i suoi colleghi più stretti a ricordare, e giocheranno per voi, fisico permettendo, come ho sempre detto. Se acquistiamo i biglietti per lo stadio, perché avranno anche una finalità importante. Quindi aiutateci. Appuntamento al primo giugno. Brava persona. Salutiamo. Salutiamo. Salutiamo tutti. Come ci vogliamo salutare? Con un abbraccio. E con una rivelerci. Io passo di abbraccio. E soprattutto con un abbraccio simbolico. No, ma io mi abbraccio. Adesso Cristian ci ucciderà. Noi vi salutiamo. Salutiamo i nostri grandissimi ospiti. Io li abbraccio tutti, perché se lo meno... Ok, ci vediamo. Appuntamento al lunedì prossimo. Parla tu che io vado ad abbracciare gli ospiti. Buonanotte, buonanotte. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie, grazie, grazie. E io mi fai? Ciao a tutti. Ciao, benissimo. Ci vediamo. Carlo, un po' di spettacolo. Ci vediamo prestissimo. Grazie. Grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie. Ci vediamo.